ed eccoci ben trovati di nuovo in diretta sulle fonti tv per questa mattinata eh di confronto di dibattito qui dal palco di Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana. Il tema è quello eh dell'evoluzione del mondo del lavoro. Abbiamo eh affrontato eh nell'ultima tavola rotonda eh l'argomento molto caldo legato all'attualità relativo alla settimana corte alle nuove forme di organizzazione del lavoro. Ora invece ne approfondiremo un altro che non è altrettanto centrale eh nel dibattito italiano ma che è comunque molto rilevante eh lo faremo naturalmente in compagnia eh degli speaker che si sono aggiunti a questa tavola rotonda. Il tema in questione è la partecipazione dei lavoratori nella gestione delle aziende. Abbiamo detto un qualcosa che in Italia non è sufficientemente approfondito invece in altri paesi esteri come ad esempio eh la Germania lo è sicuramente di più. Anzi il concetto che riassume ecco questa modalità eh di governance ovvero meet best immung una parola molto difficile da pronunciare mi limiterò a dirlo solamente in questa introduzione è la forma di governance più diffusa in Germania. Cercheremo eh di capire eh quali sono i vantaggi se il modello può essere applicato o meno anche al contesto italiano. Lo faremo con il professor Maurizio Del Conte docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Benvenuto e grazie per essere con noi. E poi l'avvocato Luca Failla founder e managing partner dello studio legale File and Partners. Buongiorno grazie. Bentrovato. E infine il dottor Massimiliano Santamaria HR Metrics and Innovation People for Innovation. Bentrovato Massimiliano. Grazie. Buongiorno. Bene. Professor Del Conte io inizio da lei perché abbiamo parlato appunto in questa introduzione di eh cogestione o eh partecipazione dei lavoratori nella gestione eh delle aziende un qualcosa che abbiamo detto non appartiene totalmente eh alla nostra tradizione e che invece è importante conoscere quindi io direi proprio di partire dalle basi eh quanti tipi di cogestione esistono e perché è importante parlarne? Sì allora innanzitutto eh esistono diversi diverse modalità di partecipazione. Il concetto di partecipazione si può declinare eh diversamente c'è la partecipazione gestionale ma c'è anche la partecipazione economica dei lavoratori c'è la partecipazione agli utili ci sono in sostanza gradi più o meno stretti di partecipazione dei lavoratori nella vita dell'impresa. Chiaramente quella più stringente quella che mette i lavoratori o meglio le loro rappresentanze negli organi di governo è appunto la partecipazione nella governance che è il modello tedesco eh dove peraltro eh esiste un doppio canale di rappresentanza dei lavoratori uno sindacale uno più direttamente espressione di tutti i lavoratori con una vera e propria elezione fra tutti i lavoratori. Eh esiste poi una partecipazione che avviene nei luoghi di lavoro attraverso strumenti partecipativi commissioni paritetiche su alcuni temi eh soprattutto per esempio oggi se ne parla molto ma eh non sempre si realizzano le commissioni paritetiche in materia di sicurezza sul lavoro oppure eh commissioni eh paritetiche in materia di retribuzione. E poi esiste eh la partecipazione finanziaria cioè in sostanza io partecipo al buon andamento della dell'impresa attraverso strumenti di incentivazione eh che sono legati a obiettivi particolari oppure alla redistribuzione eh degli utili dell'impresa eh nel suo complesso. Naturalmente eh quello che diceva lei è eh è il nostro punto di partenza. Noi sebbene abbiamo un addirittura una norma della Costituzione che prevede forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa in realtà è un modello che da noi non ha mai preso piede e non ha mai preso piede non soltanto perché qualcuno potrebbe pensare per ostilità degli imprenditori cioè per voglia degli imprenditori di mantenere eh tutte le proprie prerogative manageriali ma anche per un'ostilità sindacale cioè sindacato che non si è mai voluto mettere in gioco nella responsabilità di gestire dell'impresa. Ricordo peraltro che c'è eh una svolta recente molto importante e cioè un'iniziativa proprio della CISL eh un'iniziativa di eh legge eh popolare dove si prevede una nuova proprio eh architettura della partecipazione dei lavoratori e mi pare importante che sia stata promossa proprio da un sindacato. Ecco eh già sul piatto abbiamo veramente tanti elementi eh su cui ragionare e passo all'avvocato failla perché eh si è citata la costituzione in particolar modo l'articolo 46 no? Che concede il diritto eh dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende che però poi non è mai eh diventata una legge quadro. Eh ebbene ecco ehm ha citato anche il professor del Conte il ruolo fondamentale del dei sindacati eh se agevolano questo tipo di modello oppure lo ostacolano. Quindi a lei la parola proprio per capire anche un po' il punto di vista legislativo. Ma si diceva bene Marizzo del Conte cioè c'è stata una sorta di reciproca diffidenza. Da un lato quello come dire del mondo imprenditoriale che non ha mai visto di buon occhio questa idea di far partecipare l'altro, i lavoratori, le organizzazioni sindacali alle proprie scelte. Io rischio il profitto o le perdite e quindi devo essere libero, le mani libere di decidere. Un po' questa è la logica che è esattamente il contrario della logica come dire tedesca che comunque staranno grandissimi risultati. Poi dovrebbe discutere su sul perché staranno grandissimi risultati da tempo. Dall'altro la reciproca diffidenza anche delle organizzazioni sindacali. Adesso c'è questa novità anche se la CISA ha sempre avuto come dire un approccio differente rispetto alle altre organizzazioni sindacali rispetto al mondo imprenditoriale. Un'iniziativa, vedremo se questa cosa avrà le gambe per camminare oppure no. Il tema qui è capire se si può fare questo salto. Io sono un po' diffidente. Se si possa fare a livello legislativo, a livello generale, voglio dire per la valenza di tutte le aziende, il salto da avversario a partner. Perché se tu sei il mio avversario, no? Io sono il capitale, tu sei il lavoro, c'è l'idea che tu sfrutti me e io quindi cercherò di avvantaggiarmi il più possibile respingendo le tue iniziative volte a sfruttarmi sempre di più. Questa è un po' la logica. Questa è la logica dell'avversario, l'avversario nemico. Due mondi che non si trovano, non si parlano, poi ogni tanto dialogano e siglano un contratto collettivo, ogni tanto, poi dopo ricominciano a litigare come il cartone animato del gatto. Oppure siamo partner, oppure siamo partner. Ci dividono ovviamente delle cose, ma a un certo punto ci sediamo e diventiamo partner. Perché? Perché capiamo tutti e due che il tuo interesse è anche il mio interesse. Ne abbiamo parlato anche in altri momenti, cioè il tema della settimana corta, la flessibilità, work-life balance. Tutti questi discorsi sono discorsi dove si diventa partner su un progetto comune che è di interesse dell'azienda e di interesse dei lavoratori. Quindi io sono negativo sul tema generale, su come una legge possa cambiare. Sono molto positivo, come sempre lo dico, sulle iniziative individuali di singole aziende che possano e vogliono sperimentare. Lo sappiamo tutti, ma al di là della legge, al di là dell'articolo 46 che non è stato attuato, niente impedirebbe domani che un'azienda decidesse, in via, come dire, pilot, di sperimentare mettendo a terra un progetto e dicendo su certi argomenti noi facciamo dei consigli di amministrazione aperti e invitiamo a partecipare uno o più, organizzazioni sindacali, rappresentanti eccetera. È chiaro che lì a quel punto iniziano le richieste. Io vengo, mi faccio partecipe di questa tua iniziativa e cosa ottengo in cambio? Quindi bisognerebbe ragionare su questo, ma niente vieta che si possa sperimentare forme di partecipazione anche oggi in assenza di leggi. L'avvocato Failla, in questa considerazione, ci mette un bel punto di domanda, cioè se sarà mai possibile superare la logica del conflitto per abbracciare invece quella della cooperazione, della collaborazione e diventare partner e non avversari. È una questione naturalmente politica, legislativa, ma anche culturale e io quindi, dottor Santamaria, le chiedo dal punto di vista della sua esperienza a contatto con le aziende, se tutto questo è possibile o se è destinato a rimanere un sogno. Allora, diciamo nel mio percorso non sono mai inciampato in organizzazioni che abbiano messo a terra delle forme partecipative, ma sicuramente hanno incominciato a mettere in campo delle forme di partecipazione all'organizzazione. Oggi quello che è molto richiesto, credo di non offendere nessuno dicendo che noi probabilmente siamo quelli che stanno uscendo dal mondo del lavoro e quelli che invece stanno per entrare nel mondo del lavoro sono qui fuori. E quello che stiamo riscontrando, e quindi probabilmente dovremmo guardare questa possibilità con gli occhi di coloro che entreranno nel mondo del lavoro, quello che chiedono è valori. Quindi loro hanno bisogno, adesso si usa tanto questo termine inglese che è il purpose, cioè qualcosa viene un po' dalla pancia che dia un senso di appartenenza e quindi che faccia ingaggiare le persone all'interno dell'organizzazione e creare un sistema valoriale e quindi conseguentemente di comportamenti e probabilmente la strada che può aiutare culturalmente le organizzazioni ad aprirsi a determinate situazioni, presupponendo che questo sia legislativamente possibile come abbiamo visto. E dall'altra anche i lavoratori che è ad assumere un senso di responsabilità. Come diceva l'avvocato Failla prima, cioè pandemia, work-life balance, ti abbiamo lasciato a casa a lavorare e ci siamo fidati. Quindi questo significa che obiettivamente c'è già una forma di apertura. Quello su cui dobbiamo andare a insistere è creare un sistema valoriale. Nel momento in cui i valori e quindi le regole del gioco, le regole di ingaggio sono comuni, allora si può scendere in campo insieme e giocare la partita. Certo, una questione fondamentale qua attorno dal professor Del Conte è anche capire il perché eventualmente dovremmo aprirci al cosiddetto modello Renano, visto che questa gestione partecipativa delle imprese è diffusa soprattutto in Germania. Quali sono i benefici lato lavoratori, ma anche lato imprese? Ecco, questa apertura culturale a cosa porterebbe? Io credo che ci sia stata un'evoluzione storica e organizzativa delle imprese, per cui oggi è molto più difficile mettere lavoratori e management e impresa contrapposti. È molto più difficile perché in realtà appunto, come è stato già ricordato, ci sono moltissime interconnessioni e sempre di più l'impresa lavora attraverso l'ingaggio dei propri dipendenti, cioè i dipendenti, i collaboratori dell'impresa devono sentirsi parte di una comunità che va nella stessa direzione e che quindi in qualche modo non vede questo conflitto di interessi o questa contrapposizione di interessi, cerca perlomeno di superarla. Ed è proprio per questo, essendo così strutturati, insomma è chiaro che se noi immaginiamo un'impresa sempre più fondata sull'obiettivo, sul risultato, sulla performance del lavoratore, è evidente che c'è una naturale convergenza perché questi obiettivi vengano raggiunti e quindi le forme di partecipazione hanno questo significato, hanno il significato di valorizzare le convergenze, piuttosto che la classica organizzazione verticale molto di tipo dirigista, nella quale evidentemente il lavoratore è una sorta di burattino che fa esattamente ciò che l'organizzazione ha previsto. Oggi non è più così e se io richiedo uno spazio di autonomia al mio lavoratore, bisogna che il mio lavoratore sia in linea con me e bisogna anche che sia informato, che in qualche modo partecipi dei vantaggi di cui poi potrà godere l'impresa nel suo complesso. Da questo punto di vista io credo che ci siano condizioni molto diverse rispetto a quelle che erano tipiche dell'impresa del Novecento, che favoriscano naturalmente queste forme di partecipazione, però diciamocelo chiaro, qui noi accostiamo il modello renano al modello italiano, il problema non è tanto dal punto di vista teorico, il problema è dal tessuto imprenditoriale, cioè ci sono due tessuti imprenditoriali diversi, da noi la microimpresa che è purtroppo il 97% delle imprese del nostro paese, chiaramente ancora impostata sul proprietario padrone capo, che non vede molto di buon occhio le forme di partecipazione. Quando noi pensiamo ad avvicinarci al modello renano pensiamo tendenzialmente a imprese grandi e strutturate e soprattutto managerializzate. Quando dico managerializzate dico con manager che abbiano cultura organizzativa, che abbiano strumentazione organizzativa, che abbiano studiato banalmente questi strumenti e che quindi sappiano cogliere anche i vantaggi organizzativi della partecipazione. Ecco, lei ha toccato un punto importante, cioè proprio la struttura delle imprese e torniamo ad un concetto che abbiamo già evidenziato nella tavola precedente, cioè il fatto che il tessuto economico italiano sia caratterizzato da piccole e medie imprese che adottano per quanto riguarda la governance, l'organizzazione, un modello ancora vecchio che ci portiamo dietro dal secolo scorso. E poi passo all'avvocato Failla, ecco, e le chiedo se secondo lei le piccole e medie imprese hanno non solo le capacità ma anche proprio le strutture, gli strumenti per abbracciare il nuovo. Questo è un discorso molto complesso, la piccola e medie impresa italiana che lo satura, come dire, della struttura produttiva italiana sicuramente arranca, sicuramente fa più fatica della grande impresa, poi la grande impresa è la grande impresa normalmente straniera con la branch italiana, quindi partecipa di una cultura differente che sia nord europea o americana o tedesca, quindi sicuramente le piccole e medie imprese faranno più fatica e oggi l'imprenditore, anche della piccola impresa di 50 dipendenti, come dire, gli verranno i capelli dritti a parlare di partecipazione, già parlare di sindacato in alcuni ambienti è ancora qualcosa che crea dei riflessi condizionati alla Pavlov, metto la mano la pistola, mi parli di sindacato, quindi già figurarsi il resto, però io credo che la direzione sia quella lì, come sempre ci saranno aziende che faranno sperimentazione e che apriranno inevitabilmente apriranno la pista dettando in qualche modo una linea da seguire, del resto i risultati, poi alla fine il tema grosso da cui si muove questo ragionamento secondo me è sempre quello, il tema della produttività, cioè la produttività soprattutto in un mondo della produzione che cambia dalla grande fabbrica che era maggioritaria, oggi abbiamo il settore terziario avanzato, il settore terziario avanzato, la produttività ce l'hai se i lavoratori lavorano sullo stesso obiettivo e condividono i stessi valori, non c'è più un capo che dice cosa fare, come fare, quando farlo con la frusta, lì c'è una condivisione e questa cosa passa attraverso i progetti quindi io credo che sia una strada doverosa, anche perché ci sono sperimentazioni che vengono fatte oramai su tanti argomenti, credo che sia quella un po' la strada. Io questa esperienza un po' ho seguito per anni una grande azienda tedesca, branch italiana, una grande azienda tedesca, quando andavo lì vedevo le due foto, c'era le foto dello stabilimento in Germania e le foto dello stabilimento in Italia, il personale, quelle foto che si fanno dall'alto, avete presente l'helicopter view, no? Allora la foto della fabbrica tedesca c'era l'amministratore delegato attorniato dai membri delle rappresentanze sindacali che sedevano nei consigli di vigilanza, sorridenti, felici, di fianco a lui e poi a seguire dietro tutta, come dire, la pletora di dipendenti, di collaboratori. Foto italiana, foto italiana, amministratore delegato, sorridente, di fianco a lui la prima linea poco sorridente, la prima linea degli stretti collaboratori, a seguire tutta la platea, sempre più come l'omino che sta in fondo, che non farà vedere come la pubblicità del dentifricio, abbronciata e in ultima linea, come a scuola, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i più arrabbiati che stavano in fondo. Cioè è chiaro che tu da lì non vai da nessuna parte, non vai da nessuna parte. Allora va cambiata va cambiata proprio l'impostazione. Dovremmo chiedere che si facciano dei passi avanti in questo senso. Certo, ecco, va cambiata l'impostazione, anche qui è un processo lungo, naturalmente, a tappe. E coinvolgo a questo proposito massimiliano perché l'avvocato Failla ha detto che ci saranno probabilmente dei grandi gruppi, delle grandi imprese che faranno da prepista e invece delle aziende meno strutturate, più piccole, che vanno aiutate. E qui è fondamentale il ruolo appunto degli HR, appunto questa componente terza che invece risulta sempre più significativa. E quindi ecco, come aiutare le aziende in questo passo, almeno in questa apertura? Il tema della cultura è quello che fa svoltare. Prepenso che non ci sono vincoli di carattere tecnologico perché oggi la tecnologia costa anche poco, quindi se qualcuno volesse adottarla non ci sarebbero grandissimi problemi o ostacoli nell'adozione di nuove tecnologie, a parte magari l'intelligenza artificiale che adesso è un po' è la fede. Però sicuramente il ruolo dell'HR all'interno delle organizzazioni deve cambiare, è già cambiato tanto, dovrà ancora cambiare e uno dei temi su cui ci si sta focalizzando anche adesso è la modalità con cui comunichiamo. Molto spesso all'interno delle organizzazioni fino a sette otto anni fa la parte di comunicazione era fuori dal mondo HR, era da tutt'altra parte. Adesso invece piano piano diciamo i direttori HR hanno portato dentro anche la parte di comunicazione perché andiamo a comunicare dei salti culturali quantici perché qui stiamo parlando di un salto culturale quantico, andiamo a comunicare i valori che dicevamo prima, andiamo a comunicare ai manager, ai middle manager quindi a quella fascia che rappresenta lo zoccolo duro dell'organizzazione, il motore dell'organizzazione, cosa dovrebbero dire e come riescono a sentirsi appartenenti a quei valori. Quindi sicuramente c'è un tema importante di chiarezza, chiarezza in maniera molto molto diretta e chiara. Nel 2017 mi ricordo in un'organizzazione telecomunicazioni appena fusa, molto grossa, il percepito delle persone è che guardavano all'amministratore delegato come un faro e poi tutto quello che discendeva dall'amministratore delegato in termini di comunicazione si disperdeva. Perché? Perché quella fascia grigia di middle manager non erano adeguatamente formati oppure non avevano ancora sposato quella che fosse l'obiettivo e lo scopo dell'organizzazione. Quindi il ruolo dell'HR oggi è sempre più fondamentale e non è fondamentale da un punto di vista di employee relation, lì ci sono dei professionisti che lo fanno, non è più fondamentale da un punto di vista amministrativo perché lì ci sono dei payroll provider che lo fanno, non è più fondamentale da un punto di vista di sistemi perché si acquisiscono dei sistemi che ormai fanno tutto. È fondamentale nel vivere l'organizzazione, nel modellarla e nel dare le comunicazioni giuste. Ecco Bassimiliano lei ha citato il salto quantico dal punto di vista culturale ma è un salto che viene accelerato inevitabilmente dalla tecnologia, la rivoluzione tecnologica adesso quella legata all'intelligenza artificiale che sta definendo anche una rivoluzione proprio a livello di struttura, di organizzazione delle imprese, l'ha citato prima anche il professor Del Conte nella direzione della orizzontalità e non più della verticalità. E visto che questo è un po' il futuro che ci attende, a partire da questa premessa lei pensa che proprio ecco una cogestione aziendale, quindi una forma partecipativa sia quella che si adatterà meglio alle imprese del futuro? Una domanda che rivolgo a lei e poi la conclusione la lascio agli altri due ospiti. Allora io penso che tutte queste trasformazioni organizzative portino nella direzione di una convergenza, una convergenza perché l'obiettivo comune è la produttività, è il far funzionare l'impresa meglio e per risultati piuttosto che per semplicemente disponibilità come era la disponibilità del cartellino che naturalmente era legata a un modello organizzativo puntualissimo su ogni singola segmento di prestazione che oggi non funziona più. Da questo punto di vista mi pare, ma appunto l'abbiamo detto, lo ha detto l'avvocato Failla, è stato già ribadito, è chiaro che non possiamo aspettarci un cambiamento se i grandi player industriali non segnano la rotta. Io per la mia esperienza vedo che questo sta già avvenendo. Poi molto spesso per una ritrosia culturale si tende magari a non sbandierarlo troppo, a non dichiararlo troppo. Sia imprese che sindacati sono tutto sommato molto prudenti a parlare di partecipazione, ma nei fatti questo sta già avvenendo e mi sembra un buon segnale. Un buon segnale per il presente e un buon segnale anche per il futuro. Avvocato, partecipazione o comunque almeno una maggiore partecipazione è la parola chiave per capire quello che ci aspetta. Sì, è vero quello che dice Marizzo del Conte, cioè le cose si fanno magari si dicono poco. Commissioni paritetiche di consultazione nei vari segmenti contrattuali dei grandi gruppi ci sono, un po' più faticose, un po' meno faticose, poi come sempre le cose funzionano se le persone le fanno funzionare, quindi poi dipende ovviamente dall'approccio, dall'atteggiamento e qui anche come in altri ragionamenti, discussioni, il boccino in mano è nell'azienda, è l'azienda che deve decidere di aprirsi a questo tipo di partecipazione e consultazione che comporta anche delle responsabilità, perché consultarsi vuol dire ascoltare quello che tu hai da dirmi. Se invece è una consultazione finta, ti chiedo ma poi non ti ascolto, evidentemente l'interlocutore perde fiducia e quindi si ritrae, quindi è un gioco di reciproca apertura, io mi apro, tu ti apri, più io mi apro, più tu ti apri, quindi c'è un investimento reciproco che è fatto sempre sulle persone, poi lo vediamo, le relazioni industriali sui luoghi di lavoro funzionano quando ci sono le persone che interpretano in quel momento storico quella dinamica. Io sono fiducioso, sono fiducioso perché credo che sia una direzione obbligata, o si va in quella direzione o rischiamo di andare a sbattere, perché di fatto il rendimento, i risultati è sempre più una prerogativa importante delle aziende e se c'è l'avversario, l'avversario il risultato non me lo fa raggiungere, butterà sempre la palla in tribuna, invece dobbiamo giocare più o meno una stessa partita, ovviamente partendo da sponde differenti, da ruoli differenti, ma è la stessa partita che bisogna giocare. Imparare a giocare assieme, il gioco di squadra per utilizzare una metafora sportiva, dottor Santamaria, l'avvocato è fiducioso, lei? Non so se è fiducioso o meno, ma sono sicuro che lì andremo, quindi una modalità di partecipazione è sicuramente quello che avverrà, come il professor Dalconte ci ha detto le diverse modalità, io non so, non ho idea di quale sarà la modalità scelta e come ci arriveremo o se ne uscirà fuori una nuova. Quello su cui sicuramente atterreremo sarà una forma di partecipazione forte alla vita e all'organizzazione. Abbiamo già iniziato a far partecipare le persone, ci vuole un cambio di passo e questo cambio di passo lo daranno soltanto quei grossi player che entrano in campo e sbloccano la partita, quindi saranno coloro che ci porteranno qualcosa che ancora non abbiamo visto, che hanno la forza per poterlo fare e hanno la voglia di comunicarlo, perché tante cose vengono fatte ma non vengono dette, quindi vanno dette. Sicuramente, ecco, poi c'è anche un altro aspetto molto importante, ovvero la questione del potere, ne abbiamo accennato prima, c'è questa difficoltà anche da parte di chi ha il boccino in mano, per riprendere la metafora dell'avvocato, nel cedere parte del proprio potere e condividerlo, ecco, con chi invece fino a quel momento ha subito le decisioni e non le ha prese. Vedremo ecco se riusciremo ad adottare questo tipo di modello e di governance. Io ringrazio i tre speaker di questa tavola rotonda, il professor Maurizio Del Conte, ordinario di diritto del lavoro all'Università Boccone di Milano, grazie, l'avvocato Luca Failla, founder and managing partner dello studio legale File and Partners e infine il dottor Massimiliano Santamaria, HR Metrics and Innovation, people for innovation. Grazie molti a voi.